A passione di calcio il più cordiale buon pomeriggio da Partanna Mondello per teletrasmettervi l'incontro di calcio valevole per la terza giornata del campionato di eccellenza tra la locale squadra Parmonval in tenuta completamente bianca e il Marsala 1912 con divisa azzurra con fascia bianca. Inizia Parmonval Marsala 1912 agli ordini del signor Venuto della sezione di Messina con la Parmonval che sventaglia questo pallone terminato direttamente in fallo laterale. Le classiche fasi di studio hanno però interrotto questa manovra che adesso è in mano della Parmonval che è in manovra con il numero 4 Torres si lotta a centrocampo ancora l'espertissimo numero 10 Rappa capitano del c'è un attacco intanto della Parmonval che va subito in vantaggio con il numero 9 con il numero 9 Martinez è stato un lancio di Rappa che ipoteticamente vorrebbe già chiudere i conti di questo match con il raddoppio perché sta continuando ad attaccare nonostante il vantaggio e dunque le condizioni imposte da Mutolo sono quelle di cercare di raddoppiare Furnari il pallone dentro e il direttore di gara dà il gollo direttamente su calcio di punizione. Era un cioccolatino per Minine a brancare questa sfera troppo facile attacca la Parmonval con Follari sulla fascia il cross buono al centro ma che bomba di Sami! Inizia il secondo tempo tra Parmonval e Marsala con gli azzurri che battendo il calcio d'inizio provano a imbastire la prima azione d'attacco contro un coso che allarga sulla destra il cross adesso è Sami con questo retropassaggio un errore Laura e Marsala prova a colpire con questo pallone largo sull'auto di sinistra il tiro e il gol che riapre le sorti dell'incontro con il numero otto pedalino calcio di punizione per la squadra di Brucculeri e c'è il fischio il lancio all'interno la traversa rischio di autogol e il pallone ancora all'interno dell'area di rigore parato da Minini Isaia il cross al centro la possibilità il gol il pareggio del Marsala il pareggio del Marsala con il numero 20 Vetrano che era entrato da poco e nonostante la pioggia è festa all'Omonaco Marsala ci ha creduto è riuscito a segnare il gollo che ha riaperto subito la partita anche se c'è un'occasione importante per la Parmonvalesce Furnari a vuoto calcio di rigore ingenuità di Furnari è tutto pronto per il penalty si aspetta soltanto il fischio Cardinale contro Furnari il tiro il pallone che picchia sul palo e termina fuori la disperazione di Cardinale ovviamente lui l'incaricato della battuta soltanto un uomo in barriera Petrucci e prove il tiro coraggioso Petrucci che si spegne sul fondo pallone al centro uno strano campanile sfera allontanata pedalino e poi arriva il triplice fischio che manda entrambe le squadre negli sfogliatoi dopo sei interminabili minuti di recupero squadre allo stremo delle forze Cardinale si accascia a terra sconsolati i giocatori della Parmonval addirittura rincuorati dai giocatori del Marsala che invece hanno giocato uno grandissimo secondo tempo e molto sportivamente le due squadre vanno a darsi la mano come giusto che sia dopo 15 minuti finali veramente infernali è proprio tutto dal Lomonaco di Partanna Mondello non mi resta altro che ricordarvi il risultato Parmoval 1997 Marsala 1912 risultato finale 2 a 2 un saluto da Nicola Donato e da Umberto Ligioi Grazie a tutti